bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento con crisis 3 allora cominciamo subito riprendi partita inizializzazione messizione qua ci mette sempre una vita porco due due coglioni si blocca in modo super forza per schiacciare gli amici con un singolo colpo buono andiamo oh sta botta ci ha messo poco meno male è Claire il comandante regionale di New York non è un militare abbiamo perso gran parte dei ufficiali ma sta facendo un ottimo lavoro quindi adesso rispetti l'autorità beh vedi lei è diversa ah lei ti dà il culo allora ecco perché ah merda le avevo giurato di non dirlo ad anima viva aia niente più culo tecnicamente potrei spifferagli tutto giusto certo potrei starmi zitto se anche a me mi arrivasse un bel pezzo di culo una bella tettona eh si vedrà si vedrà integrazione immediata ah mettiamo se una buona b no fatta la cazzata b no x s'abbicato che la play io porco dio bene spero che ne venga la pena ah io direi proprio di si guarda abbi fede abbi fede veloce 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 mamma mia guardate che spettacolo ragazzi ragazzoni miei bello proprio quindi c'è pure la tuta climatizzata ma che presa bene guarda che figa l'erba guarda che spettacolo mamma mia mamma mia le bollette cominciarono ad aumentare e la gente si ritrovò indebitata fino al collo se le introdurse i campi di volontari da schiavitù buon attimo è un campo mitacolo i cell stanno utilizzando armi intelligenti si attivano solo contro soggetti non autorizzati come d'accordo meglio usare la nanovisione usa la tuta per interfacciarti con le mine disattivale ah va bene ok andiamo tac 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 si si basta e avanza non ci fate niente lol figo A lei, prego Che deficiente Che figura di merda Aisto, così si fa Rosicone A me non serve una nanotuta del cazzo Come no? Certo, duarte Mamma mia Vabbè, ti è incazzato però Quanta rozza sto cecchino Mamma mia Porco Porco due Eh già Lo penso pure io Mamma mia Che roba Che roba No, i cell si avvicinano Non c'è tempo di fare il giro Il raggio e la cadenza di fuoco rientrano in parametri gestibili Possiamo tagliare in mezzo Sentito bastardi Mi ammazzo tutti Ci forza Fatemi sordo Mi faccio a pezzi Sei impazzito Quelle armi ti faranno a pezzi Adesso cominci a capirmi Mi hanno preso la nanotuta profe Sono umano Umano Sai cosa ho sacrificato io per fermare i chef? Chi me lo restituirà? Merda Qual è il piano? Supporto Appuntamento e soppressione per segni Informazioni Tutti perché il divertimento Dov'è finito il vecchio obseco? Le cose cambiano Perfetto Ok funziona così Io chiamerò le posizioni Non appena le vedo Come questa nel settore 1 delta 0 Sono zone in cui potrebbe trovarsi un deposito Il nostro obiettivo principale È la torre 3 delta 3 Appena prendi gli armi Faremo fuori quel bastardo Sentore 1 delta 3 Tutto bene Lì Sentore 1 delta 0 C'è qualcosa Attenzione Sogente i problemi Fuori dalla visuale della torre Siamo forse ovvio Cazzo Ci siamo Facciamo la riconizione Poi passiamo al prossimo settore Porco Deo La La E la Sì però Non è che mi dura tantissimo L'accoltamento Però che palle Cazzo Via 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 Allora Mamma mia ragazzi Non è che mi dura tantissimo 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 Mamma mia Ma è con la sua Ma è con la sua E' andato sparare là giù quello Finita tranquillamente Tacci Mamma mia Mamma mia Con che culo Come ha fatto a non vedermi Io non lo so Io non lo so proprio Mamma mia ragazzi Ma che spettacolo però Allora Allora Io qua te Coro proprio alla grande Non hai capito Porco due Mi ha visto Che culo Oh Zitto No Non mi ha visto Mamma mia Mamma mia Via 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 La polizia Mamma mia Tanta roba ragazzi Allora Allora Devo distruggere i cannoni Quindi Uno Se ne va A fanculo Due Se ne va A fanculo E tre Se ne va A fanculo Mamma mia Che culo Ah Te dici Ma che spettacolo Sto fucile Cristo Porco Deo Aggiornami sulla tua posizione Incontriamoci Ricevoto Fammi disattivare Ste mine di merda Tac 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 No Mamma mia Che culo Ok Qua dovrebbe essere al sicuro L'ho fatta tutte Le frecce elettriche possono agire su una vasta area Provare nel lago Trecce elettriche di già Trecce elettriche di già Merda 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 Ok Targettamosi nemici Uno Due Due Tre Quattro Quello è il nostro obiettivo Ok Mmm Quello è preso Muoriveranno 800 miliardi di persone Guarda eh Però sto cresistere rispetto al due La cosa Come si chiama La Energia dura molto di meno Questo devo dirlo Dura veramente molto di meno Preso Ah quello là Non l'ho mica L'ho visto Ah rinforzi Che palle oh Ma se l'ho tirato qua a bricola Non è morto Ma dai Ma che palle Allora Targettami rinforzi Io devo gettare pure i fricci No Ok Ok Attenzione Attività rinforzata Rilevata Della struttura Del perito Osservatore Profet è qui Sono tutti morti Sbarbagliato No Porca troia Che cazzo Pezzo di merda Che palle Già so poche Queste frecce Poi me le fate pure sprecare Bastardi E te pareva Queste MP di merda Allora Allora Dicevi Quanti ne sono rimasti In due Quello io riesco Sì Mi pare Riesco a farmelo Allora A te Mentre ce faccio Proprio Così Così Allora Andiamo a sapere Di via le frecce E che cazzo 10 Ok Grazie Bravo Ora che stai saltando Porca Puttana Oh Perché non mi salta Taccì tua Attenzione Armi ser Vicino alla tua posizione Io non rilevo niente Veramente Poi vabbè Se lo dici te C'è Ma che spettacolo No Mi piace troppo Sto gioco E' veramente Uno spettacolo Ma troppo Sei te Ah Ok Che vuoi Mi hai trovato Quell'arma Non ha importanza Spero che tu sappia Quello che stai facendo Tagliamo per le gallerie Verso il deposito ferroviario Bello Ok ragazzi Come gameplay Credo che possa Concludersi qui Anche perché è durato Un po' più Degli altri Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E al prossimo appuntamento Con Crysis 3 Bella raga E al prossimo appuntamento E al prossimo appuntamento Grazie a tutti